La campana per traviere Filippo Marco Poloni che si presenta a 10 di metodo 65 Doppio per posto l'estero nelle due fasi tra Cocco Rubio e Claudio Minardi tempo della seconda fase 30 e 66 Pronti Non ho fatto una merda La campana per la costa Grazie a tutti. Grazie a tutti.